17 giugno 2012, sempre doppio senso, doppio senso, doppio senso, per chi non l'avesse capito, circunvallazione esterna, lato sinistro direzione Lago Patria, sempre lo stesso posto, abbiamo visto ieri, l'altro ieri, l'altro, l'altro ieri. Vede, domenica 17 giugno 2012, sono le 10.50 circa, e qui c'è un altro roco, terra di fuoco.